Sono stati bene 39.000 i visitatori della nona edizione della Fiera della Montagna che si è tenuta venerdì, sabato e domenica presso la Fiera di Bergamo. È stato confermato l'apprezzamento per un format che mette in risalto la montagna in tutti i suoi aspetti e al pubblico è decisamente piaciuta la novità dell'ingresso libero per l'intera durata della fiera. Una scelta fortemente voluta dalla Promoberg e da tutti i suoi compagni di cordata, ha spiegato Stefano Cristini, direttore di Promoberg, per sostenere il comparto della montagna. Alta quota ha portato in fiera la montagna d'eccellenza in tema di prodotti, località e servizi. Sono stati bene 150 i marchi rappresentati, oltre a denti e località di assoluto prestigio. Inoltre l'area eventi esterna, pur penalizzata in parte dal maltempo, ha permesso anche quest'anno ai visitatori di provare gratuitamente numerose discipline sportive outdoor. C'è stato poi grande interesse per i numerosi incontri, convegni e conferenze che grazie all'intervento di importanti esperti hanno consentito al pubblico di approfondire diversi temi cruciali per il settore. Solo per citarne alcuni, i rischi valanghe, le normative sulla sicurezza dei parchi avventura i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza in montagna. Il prossimo appuntamento alla fiera di Bergamo sarà ancora ad ingresso libero, con la 34esima edizione della fiera campionaria. Il tradizionale appuntamento, con il più ricco menu dei settori merceologici messo in campo da Promoberg, si terrà dal 27 ottobre al 4 novembre.